Intendo rinunciare alla prescrizione. Così, alla prima udienza del processo di appello in cui è imputato del reato di minaccia a corpo politico dello Stato, l'ex ministro Calogio Romannino, assolto in primo grado, ha reso noto il proprio orientamento. La decisione non è ancora stata formalizzata dal momento che è appena cominciato, il giudizio, che si celebra in abbreviato, è stato rinviato al 13 settembre prossimo. La Procura Generale, che non ha impugnato il verdetto di primo grado, impugnato invece dalla Procura della Repubblica, ha la necessità di studiare il fascicolo per decidere se chiedere l'eventuale rinnovazione dell'istruttore dibattimentale, che in realtà la legge consente solo in ipotesi eccezionali. Se si andasse verso questa direzione, significherebbe raccogliere nuove eventuali prove a carico dell'ex segretario della Democrazia Cristiana Siciliana. La sentenza di assoluzione per Calogio Romannino, per non aver commesso il fatto, arrivò nel settembre del 2015, a pronunciarla il giudice per le udienze preliminari Marina Petruzzella. Le motivazioni della sentenza furono depositate dopo quasi un anno dalla sentenza stessa e sul giudizio si entrerà nel vivo a un anno circa dalle motivazioni, tempo record lunghissimo per un rito abbreviato. Calogio Romannino, già uscito indenne al procedimento precedente in cui era accusato di mafia, è finito sotto inchiesta nell'ambito del secondo procedimento, quello scaturito dall'indagine della magistratura palermitana sulla presunta trattativa Stato-mafia di cui l'ex ministro dell'Agricoltura e della Marina Mercantile, secondo l'ex pubblico ministero della procura di Palermo Antonio Ingroia, sarebbe stato addirittura il promotore. La posizione di Calogio Romannino era stata stralciata fin dal primo grado da quella degli altri imputati perché, come detto, l'ex ministro ha scelto il processo con il rito abbreviato.